E' iniziato il nostro spettacolo, intanto che ci state osservando vi ricordiamo che le vostre spalle e sotto i porti ci sono pronte le chiacchiere e il vivido fate da prologo. Mi raccomando la moderazione, vi aspettiamo tutti. E' iniziato. Stop 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 ragazzi, anche quest'anno Gabibbo. Anche quest'anno tra noi hanno cieto, cioè proprio c'è il forzogù, adesso si ha fatto un anno, boom, boom, facciamo anche l'anno dopo, non so? Cioè, si è sempre al modo, infatti che nel corso non erano andate lì, c'è il sole, tutti così contenti, bella figura. però quest'anno, cioè, basta, le cose ripetute due volte, si sa che, cioè, si provano le altre, le altre, cioè, dai, vai giù, dai, 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 via, dai, 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 non so che vuoi restare qua, dai, giù, giù, dai, 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 giù. Non c'è più il Gabibbo a romperci. Quest'anno possiamo cambiare il tema. Dunque, vestito così, vestito così, molto Super Mario, ecco la dite, molto, eh, molto, eh, molto. Luca, se io sono Super Mario, logica, mi manca Luigi. 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 Mario. Luigi. Aiudimmi. Luigi, ma. Luigi, come si fa? No, no, più defasso che deve aiutarmi sul palco. Luigi, ma. Uuuh. Luigi, ma dai, vieni sul palco, dove sei? Arrivo un attimo. Grazie. No. No. Non farò farà la patta. No. No. Eccolo, eccolo, eccolo! Veo della cartigenica! Oddio, è Luigi! Luigi! Fratello mio! No, è Luigi! Va meglio! Ma io si andavo una mano quest'anno dai Mario 900, sei sicuro? Sei pronto, ma veramente... Pronto! Pronto! Pronto? Patellone, sono pronto! Quindi, quest'anno ci siamo! Io, Super Mario, setto Simon, Luigi, setto Nicola e la Company! Dov'è la Company? La Company? Ma non era qua? Eh, ma la mia Company era qui, poi no! Aspetta, aspetta, scusate, avete visto la Company? Dov'è la Company? Dov'è la Company? Dov'è la Company? Non hanno vista la Company? No! 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 Beh, mi sembra questo che volete arrivare? Dove siete stati, vuoi sapere... Sono veramente adesso, Mario, perché? Sì, ma ne mancano ancora, comunque, sono un po' Dove siete andati? All'euforia! A fare cosa, all'euforia? A prendere i vestiti! A prendere i vestiti! A me, grazie! Beh, vabbè, però l'approssimante arrivate in orario, eh! Ne mancano ancora, Mario, dove sono? Manca ancora, manca ancora diverse persone della Company! Allora, chi manca? Eh, ecco! Voi dove eravate? Scusate! Eh, noi eravamo dalla patti a prendere le scarpe! Eh, la patti... ma... La patti chi? Ma il nostro sponso, la patti! È rapida? È rapida! No! A prendere le scarpe! Ottimo, ottimo! E abbondante! Ma... Manca ancora della gente! Sì! Ma di soliti ritardatari! Chiedete almeno scusa, eh! Eh! Voi dove eravate invece? Voi dove eravate invece? Voi siamo andati dall'orenzo Bontani a lasciare le cose di ieri sera! Voi dove eravate fatto io? Il testino di quelli lì, eh! Le mandalellone! Poi, poi, poi! Non ci sono... E mancano ancora! Ma... Lui l'ha già visto! Ma noi è quello della... Della pubblicità! Eccolo delle patatine! Eccolo delle patatine, sì! Io sono andato dalla lì a prendere la zesta! Oh, no! E tu le hai lasciate là perché hai tecle mica! Ma ci siamo tutti? No! Eccolo! Eccolo qua! Tu! Dove cavolo eri? E va quella alla pizza della Donna Rosa! No! Quella è in via Felicità Vellotti, un altro nostro sposo! Quella prima di Danny Barriere! Ma... Secondo me... Manca ancora... Ma dove c'era qualcuno? Chi manca? Pia Romagna! Ah, sì! C'è Nicola! Sto filmando! Sì! Tieni a stare molti avanti! C'è la giunta adesso una pro... Sì! Grazie! Grazie Nicola! Ragazze! A questo punto... Partire anche il primo valore! Tu? Sì! Sì! Io! Partire anche la grande! Manca un altro personaggio! Il nostro... L'insegnante di latino americano! Il nostro ballerino preferito! Il nostro Marco Ferrari! Vieni Marco! Vieni Marco! Vieni Marco! Ricordiamoci adesso per... I bagnettini da chiudere! Io sono venuto a trovare... La DJ Salmon & Company! Altri Marco! Noooo! Allora fatellone! Io ne voglio iniziare! Io ne voglio iniziare! Buonasera! Grazie.